ELEZIONI REGIONALI Elezioni regionali, conto alla rovescia per la scelta del nuovo presidente, ecco tutti i candidati in corsa. Paura del contagio, 50 presidenti di seggio su 180 nel comune di Prato rinunciano, spetta agli scrutatori pulire le sezioni. Omicidio-suicidio, la prossima settimana l'autopsia sul corpo della 38enne uccisa dal compagno che si è poi gettato dal ponte sospeso. Martedì 22 e mercoledì 23 settembre il Vescovo Giovanni invita la comunità ecclesiale pratese a partecipare al convegno pastorale diocesano. La libera università di promozione culturale sbarca su TV Prato, lezioni e conferenze in TV per tutti. Una buona serata e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Domani, domenica 20 settembre, lunedì 21 settembre, si vota per eleggere il nuovo presidente della regione toscana e rinnovare il consiglio regionale. Ecco allora un breve riepilogo su chi sono i candidati governatori e quali sono le liste a loro collegate. 15 liste e 7 candidati a presidente che aspirano all'attuale ruolo di Enrico Rossi. In Toscana è questo il quadro in vista delle prossime regionali del 20 e 21 settembre. Il candidato di centro-sinistra Eugenio Gianni, presidente uscente del consiglio regionale, è sostenuto da 6 liste. Svolta, Orgoglio Toscana per Gianni, Italia Viva, Europa Verde, Partito Democratico, Toscana Sinistra Civica Ecologista. La candidata di centro-destra Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista, è sostenuta da 4 liste. Toscana Civica per il cambiamento, Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia. La candidata del Movimento 5 Stelle è Irene Galletti, consigliera uscente. Toscana Sinistra appoggia la candidatura di un altro consigliere uscente, Tommaso Fattori. Salvatore Catello è il candidato scelto dal Partito Comunista. Presente anche il Movimento 3V Libertà di Scelta che in Toscana candida Tiziana Vigni. Il Partito Comunista italiano schiera Marco Barzanti come candidato governatore, ma nella circoscrizione pratese non ha presentato nessuna lista. Di fatto quindi, come si può vedere dal facsimile della scheda elettorale, a Prato sarà possibile scegliere tra 6 candidati presidenti e 14 liste, per un totale di 80 candidati al Consiglio regionale. La futura assemblea regionale sarà composta da 40 consiglieri, 41 con il presidente della Giunta che ne fa parte integrante. Ognuna delle 13 circoscrizioni ha diritto a vedere eletto almeno un consigliere. Presidente della Giunta regionale sarà il candidato presidente che ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Se questo non accade, dopo due settimane si procederà ad un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati. Simboli, liste, preferenze, voto disgiunto. Guardiamo insieme questa breve guida al voto delle regionali di domani e dopodomani. Domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana. Le elettrici e gli elettori devono rispettare tutte le misure di sicurezza sanitaria previste e seguire le indicazioni che saranno fornite prima e durante le operazioni di voto. La scheda di colore arancione contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri. Per eleggere il presidente si può Votare un candidato presidente ed una lista ad esso collegata. Votare solo per uno dei candidati presidente. Votare solo una lista. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato. Esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista ad esso non collegata. Vince il candidato presidente che ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Se questo non accade, dopo due settimane si procederà al ballottaggio fra i candidati più votati. Per il consiglio regionale si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista. Saranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. Sono 50 su 180 i presidenti di seggio che hanno rinunciato in questa tornata elettorale, resa eccezionale dal coronavirus per paura del contagio. Il comune ha già provveduto alla loro sostituzione. Quello dei componenti dei seggi elettorali comunque non sarà un compito di poco conto. A loro è fidata anche la sanificazione dei locali, delle superfici e delle cabine. Lucrezia Sandri. Su 180 presidenti di seggio ci sono state 50 defezioni. L'emergenza sanitaria con i timori connessi ha fatto sì che per la tornata elettorale del 20 e 21 settembre si tirasse indietro dopo la nomina praticamente un presidente su tre. Un numero eccezionale come confermato dall'ufficio elettorale del comune di Prato. Soltanto una minima parte è esplicitamente dichiarato tra le motivazioni quella dei rischi connessi alla salute derivanti dalla presenza di un gran numero di persone, quelle che accorreranno per il voto. I più hanno dichiarato motivi familiari. Più contenuto è il numero delle rinunce da parte degli scrutatori che rimane in una percentuale fisiologica. Tutti i soggetti sono stati sostituiti e il comune fa sapere che non ci saranno problemi di tipo organizzativo per il corretto svolgimento delle votazioni. I ministeri dell'interno e della salute hanno diramato le prescrizioni per i componenti dei seggi. Frequente igiene delle mani, obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica e uso dei guanti consigliato per le operazioni di spoglio delle schede. Agli scrutatori è affidata la sanificazione periodica dei locali, delle superfici e delle cabine elettorali. Il comune ha fornito ad ogni sezione i prodotti disinfettanti. Sarà compito del presidente di seggio organizzare i turni di pulizia alternandoli regolarmente alle operazioni di voto. La mascherina è obbligatoria anche per gli elettori e i rappresentanti di lista. Al momento dell'accesso al seggio, l'elettore dovrà procedere all'igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione all'ingresso. Dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione, unico momento in cui gli sarà richiesto di rimuovere la mascherina e prima di ricevere scheda e matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, saranno previste opportune aree di attesa all'esterno. Ci saranno anche sette squadre da due volontari ciascuna della protezione civile in funzione anti-assembramento nei seggi più grandi. Nella straordinarietà della situazione, Regione e Anci hanno previsto anche la deroga del termine per la richiesta di voto a domicilio per soggetti in quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Le richieste potranno essere presentate per tutta l'apertura dei seggi di domani e lunedì. A raccogliere il voto a domicilio ci saranno medici, infermieri e volontari delle speciali unità di continuità assistenziali USCAR. E domani, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15, si vota anche per il referendum popolare confermativo per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Gli elettori potranno rispondere sì o no. Se vince il sì, passerà la riforma degli articoli della Costituzione italiana e i parlamentari saranno ridotti. Se vince il no, la riforma non passa e il testo degli articoli interessati non cambia. Voltiamo pagina. Sarà conferito nei prossimi giorni l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Claudia Corrieri, la 38enne uccisa giovedì scorso dal compagno Leonardo Santini, di 50 anni, nella casa in cui abitavano alla Briglia. L'esame autoptico sul corpo della vittima sarà eseguito quindi la prossima settimana e potrà svelare importanti particolari riguardo alla dinamica della drammatica vicenda. Sempre la prossima settimana sarà inoltre nominato un curatore speciale che rappresenterà e tutelerà la bimba di due anni nata dalla relazione nel processo penale. La piccola risulta infatti parte offesa. L'omicidio o suicidio della Briglia ci spinge ad accendere riflettori sul tema delle violenze domestiche e del femminicidio, un fenomeno che sembra non conoscere fine. Ne abbiamo parlato con Francesca Ranaldi, responsabile del centro antiviolenza Lanara, per capire il perché di questa escalation. Guardate. Sicuramente la violenza dell'uomo nei confronti della donna è sempre esistita. È anche vero che in un momento storico, sociale e culturale dove ci sono delle possibilità di scegliere, c'è la possibilità di separarci, c'è la possibilità di avere delle totale di legge, dove le donne cominciano a poter scegliere rispetto alla propria sicurezza, alla propria libertà, allora sicuramente si accendono di più e si verificano di più delle purtroppo orrende situazioni come quella che abbiamo visto. È impossibile ovviamente da giustificare un gesto simile, ma che cosa scatta nella mente di un uomo che decide di arrivare addirittura a togliere la vita alla propria compagna? Sicuramente scatta l'assoluta non volontà alla sottrazione e al suo controllo. Il femminicidio si verifica al momento in cui tutto quello che è stato costruito intorno alla donna, che è isolamento, che è controllo e potere dell'uno nei confronti dell'altro, quando questo viene rotto da scelte diverse o da condizioni diverse, allora questo non viene più sopportato. La donna deve essere proprietà dell'altro e al momento che c'è uno scontro nei confronti di una realtà che deve essere diversa, di fronte a questo allora arriva la morte. Questo è purtroppo quello che succede. Come dire, spesso si usano parole sbagliate in questa descrizione, c'è il raptus, c'è la perdita di controllo, c'è l'emotività troppo alta. Non è questo. Purtroppo il femminicidio non è questo. La morte di una donna è una volontà precisa, è una escalation della violenza. Quali possono essere i primissimi campanelli d'allarme, i segnali che possono essere colti all'interno di un rapporto di coppia? Essere limitate, sentire il controllo dell'altro, ossessivo poi, essere isolate. il controllo ossessivo che a volte viene scambiato per gelosia, ma non è gelosia. E un segnale importante che io penso sempre e sul quale noi lavoriamo molto spesso è quello dell'emozione. Cosa si sente? Se le donne cominciano a sentire disagio, cominciano a sentire la paura, questa deve essere ascoltata. Il silenzio deve essere rotto, le donne non devono non dire quello che succede all'interno delle proprie case e soltanto attraverso un confronto spesso, un racconto di quello che sta succedendo, si possono veramente verificare quali sono i segnali che ci possono far capire qual è il pericolo che stiamo correndo. Ancora la cronaca, minaccia, perseguita e aggredisce l'ex fidanzata sotto casa. Il 39enne è stato arrestato dalla polizia. La donna viveva da tempo nell'angoscia, aveva dovuto cambiare vita per sfuggire alle pressioni dell'uomo. Si è appostato sotto casa, aspettando il rientro dell'ex compagna dentro ad un furgone, quando l'ha vista tornare si è scagliato contro l'auto di lei, danneggiandola e forando le gomme del mezzo con un oggetto appuntito. Sono stati attimi di vera paura quelli vissuti la scorsa notte da una donna orientale, perseguitata, minacciata e aggredita in strada dal suo ex compagno, anche lui, cittadino cinese di 39 anni. La donna viveva da mesi in uno stato di ansia e timore, il suo ex l'aveva più volte seguita e minacciata perché non accettava la fine della loro lunga relazione. Lo stalker pretendeva dall'ex fidanzata anche ingenti somme di denaro che lei però si era sempre rifiutata di dare. Le pressioni nel tempo erano diventate insostenibili, tanto da avere costretto la vittima delle persecuzioni, a non presentarsi più al lavoro e a lasciare la propria casa per trovare ospitalità da alcuni parenti. L'altra sera però si è consumata l'ennesima aggressione proprio quando la donna stava tornando nella sua abitazione per motivi personali. A nulla è servito provare a fuggire a bordo dell'auto, le gomme erano già state forate dal 39enne. A quel punto l'ex fidanzata ha provato a chiedere aiuto chiamando col cellulare due suoi conoscenti, nel frattempo è scesa dal veicolo e ha provato a divincolarsi riuscendo a scappare. Il 39enne ha continuato ad accanirsi contro la vettura parcheggiata danneggiando negli interni. Sul posto sono arrivati due conoscenti contattati al telefono e una volante della questura. L'uomo rimasto ferito ad una mano è stato bloccato e identificato. Proprio contro di lui domiciliato a Prato irregolare ma con precedenti la donna aveva di recente formalizzato una denuncia. Per il 39enne sono scattate le manette perché beccato nella flagranza del reato di stalking e atti persecutori. Sette nuovi casi positivi al Covid a Prato nell'ultimo giorno sale quindi a 790 il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati diffusi dalla regione toscana. Dei sette nuovi casi tre sono di nazionalità cinese. Tra i nuovi casi non è presente nessun minore e tutti sono a casa asintomatici. A livello regionale non si registrano decessi mentre sono 143 i test positivi al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore. L'età media dei 143 casi odierni è di 39 anni circa e per quanto riguarda gli stati clinici il 61% è risultato asintomatico e il 31% pauci sintomatico. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 709 21 in terapia intensiva. Centilaia di tamponi sono stati organizzati dalla comunità orientale di Prato che si mostra molto preoccupata per la nuova ondata di contagi. In queste ore la comunità si sta dunque organizzando per effettuare il maggior numero possibile di tamponi. Domani mattina gli orientali hanno predisposto un gazebo nel cuore del macrolotto zero all'angolo tra via Castagnoli e via Pistoiese dotato di circa 150 tamponi attraverso il social WeChat il più in voga tra i cittadini cinesi della città in molti si sono già prenotati. Cambiamo argomento martedì 22 e mercoledì 23 settembre il Vescovo Giovanni invita la comunità ecclesiale pratese a partecipare al convegno pastorale diocesano. Chiesa di Prato ha convegno per iniziare il nuovo anno pastorale l'appuntamento è per martedì 22 mercoledì 23 settembre a partire dalle 21 e 15 nella chiesa di San Domenico. In questi giorni il Vescovo Giovanni Nerbini ha infatti inviato la convocazione ai sacerdoti diaconi religiosi membri dei consigli pastorali appartenenti alle associazioni laicali ma tutti i fedeli della comunità diocesana sono invitati a partecipare alle due serate. Viste le norme anti-covid che richiedono la riduzione degli spazi per consentire un'adeguata distanza tra i partecipanti si potranno seguire i lavori del convegno anche dal Chiostro di San Domenico e su TV Prato che trasmetterà in diretta le due serate. Nella prima serata quella di martedì 22 settembre saranno quattro persone a relazionare il cammino compiuto evidenziando i risultati ottenuti e limiti riscontrati. Parleranno un vicario forane un rappresentante dei consigli pastorali un rappresentante delle associazioni laicali ed uno del mondo giovanile. Nella seconda serata a mercoledì 23 settembre il Vescovo presenterà dettagliatamente il tema del secondo anno pastorale Il testo di riferimento durante i lavori è la conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa a cura della Congregazione per il Clero della Santa Sede. Il documento è scaricabile dal sito web della Diocesi. Una giovane di 25 anni è stata investita questa mattina intorno alle 6.45 mentre procedeva in bicicletta in Viale Ferraris a travolgerla un'auto condotta da una 43enne italiana residente a Prato. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del sinistro. La 25enne una ragazza di nazionalità cinese è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Last, il primo evento locale di vendita di abiti vintage al chilo arriva a Prato oggi la partenza domani la seconda giornata di fiera guardate di cosa si tratta. È in programma fino a domani in Corte Genova Last il primo evento a Prato dedicato alla vendita di capi vintage al chilo con l'obiettivo di combinare moda e sostenibilità. Partito oggi il format sbarca in città portando con sé un nuovo modo di concepire lo shopping di seconda mano. All'ingresso il cliente riceverà una borsa in 100% cotone riutilizzabile dove inserire i propri capi. Una volta esplorata l'esposizione grazie alla presenza di bilance sarà possibile pesare i capi scelti per controllare il prezzo finale e pagarlo all'uscita dell'evento. Abbiamo deciso di partire da Prato perché prima di tutto siamo pratesi ma seconda cosa perché Prato è fin dal dopoguerra croce via di famosi cenci che poi sono diventati via via vintage la parola è il termine vintage considerando che esiste un potenziale di circa 800 milioni di tonnellate di abiti inutilizzati in tutto il mondo questa è un'iniziativa che permette di arrivare direttamente al consumatore finale e di trasformare quello che come a noi piace chiamare cencio diventa poi un abito bellissimo riutilizzabile una volta arrivati a Prato i capi vengono accuratamente selezionati dal team LAST e inseriti in un semplice ma preciso processo di riqualificazione lavati igienizzati e reimmessi nel ciclo di consumo tramite eventi pop up la manifestazione domani resterà aperta dalle 11 alle 20 ogni chilo venduto qui a LAST contribuisce a minimizzare l'impatto dell'industria tessile che ha su tutto il territorio su tutto il mondo l'idea non è certo quella di fermarsi qua a Prato quindi l'iniziativa sarà quella di proporre altri vintage chilo sales a giro per tutta Italia riprendono le lezioni della libera università di promozione culturale ma per tutelare la salute degli iscritti per lo più pensionati nell'anno del covid le conferenze sbarcheranno su TV Prato prima puntata il 15 ottobre alle 16 nell'anno del covid la libera università di promozione culturale sbarca in televisione dal 15 ottobre ogni giovedì alle ore 16 fino a marzo le tradizionali conferenze di arte letteratura storia e sociologia saranno su TV Prato il pensiero corre subito alle lezioni del maestro Manzi queste avranno più il tono delle conversazioni se gli alunni non possono andare alla libera università le lezioni tradizionalmente si tenevano nei locali parrocchiali di Santa Maria della Pietà sarà la libera università ad andare da loro entrando nelle case grazie alla tv nell'anno del covid con tutte le complicazioni che l'aggregazione comporta abbiamo deciso di non abbandonare i nostri alunni e in un certo modo anche di farci conoscere da chi viceversa prima non sapeva della nostra esistenza e della nostra associazione andando in televisione è stata una decisione del consiglio globale per cui della quale ovviamente abbiamo parlato con TV Prato e allora faremo delle conversazioni dove un'intervistatrice sempre uno dei docenti della nostra università farà delle domande al relatore che affronterà il tema del suo incontro incontri a due voci infatti si chiameranno queste conversazioni si comincia dunque il 15 ottobre con la conversazione tra Antonella Meoni e Silvia Grifoni sulle storie e pagine di Casa Manzoni con replica il martedì successivo sempre alle ore 16 oggi l'open day nel palazzo della provincia per spiegare agli iscritti circa 180 l'anno scorso per lo più pensionati la mini rivoluzione che la libera università di promozione culturale ha dovuto mettere in atto per tutelare la salute degli alunni continuando a diffondere la cultura stanno assistendo con il dispiacere di non potersi vedere anche perché la nostra università oltre ad avere un ruolo culturale che è il suo ruolo ovviamente principale ha anche il ruolo secondario ma non direi meno importante di aggregazione quindi questa era l'occasione anche per uscire di casa in generale al di là del dispiacere di non vedersi hanno accolto molto volentieri questa questa iniziativa siamo arrivati al momento della nostra agenda con tutti gli appuntamenti in programma domani domenica 20 settembre alle 8.30 la Villa Medicea la Ferdinanda di Artimino Prato e Vino percorso guidato alla scoperta dei paesaggi della doc più antica al mondo il Carmignano con visita della Villa Medicea di Artimino Patrimonio Unesco a seguire degustazione vini della tenuta di Artimino e ristoro in villa in piazza mercatale dalle ore 9 alle 19 mercatale viva mercatino di collezionismo piccolo antiquariato e oggettistica in piazza Duomo via Magnolfi e Largo Carducci dalle 10 a tarda sera mercato europeo stand con prodotti tipici di artigianato ed enogastronomia di tutta Europa alle ore 15 in piazza Duomo dal museo alla cattedrale viaggio alla scoperta dei tesori del Duomo di Prato a cura di Artemia alle 15 e alle 16 sono previste anche visite guidate al campanile del Duomo prenotazione obbligatoria alle 15 e 30 al santuario di Santa Maria della Pietà visita ai santuari mariani visita guidata a cura di Artemia alle 16 e 30 al museo del tessuto il racconto dei racconti proiezione del film di Matteo Garrone e infine contemporanea 2020 alle ore 18 al teatro Metastasio lo spettacolo The Mountain portato in scena dall'aggruppazione Signor Serrano alle 20 all'ex cinema il Celsio riflessioni come scomparire davanti ad uno specchio performance di danza a cura di Claudia Caldarano e alle 21 allo spazio K Plutone Nau coreografia di Elisabetta con Sonni e con l'agenda è tutto per questa edizione del nostro TG vi ricordo l'appuntamento di domani con Prato 7 per le notizie principali della settimana appena trascorsa vi ricordo anche l'appuntamento invece di questa sera alle 21 e 25 circa in onda su TV Prato la terza puntata del format 40 di noi che ripercorre i 4 decenni di vita della TV cittadina attraverso il racconto dei fatti principali di quegli anni sul nostro territorio dalla cultura allo spettacolo alla cronaca con tante sorprese contributi inediti e interviste direttamente dal palco del Teatro Borsi è tutto grazie per averci seguito una buona serata e arrivederci a